Si occuperanno dell'antaglio, siamo pronti? Vai! Ecco che si comincia con l'antaglio! Aspetta Grecia! Adesso abbiate pazienza, è che ci sono i volontari! Che credo che il mio sottoria, sei chupato, sono le loro dire. L'avivere pazienza, è che uno d'unico, è che uno d'unico! Sì, sei che uno d'unico, è quello che è allora. Sì, sei un caso di vita, non ho raggiunto, siamo pronti, C'è anche con loro oggi. Cantare come un pittore, intanto spazio alla musica, alle voci in erba di Clusone, voi siete di Clusone tutte e due? Di 2,7. Di Clusone, tu? Manuela hai preso il biglietto? No. Ne hai preso due? Tre. Ottimo, meno male. Confermato, eh ragazzi? Facciamo la rifa. Cosa proponete voi? Signora dice che sono più di 30 metri? Sì. Sì, la signora ha detto sì, eh. Tenino bello teso sto metro, perché sennò è oltre che 30, abbiamo fuori 50 metri che è, eh. Ok. Non rubare troppo. Sì, infatti. Allora, vi ricordo che tra pochissimo, perché la giornata non finisce con lo strudel, ci sono anche gli amici del 500 Show Team. Monozco, che cosa farete? Cavolo, Show Team. Ovvero che cosa farete? Tu. 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 Grazie.